Telecom diventa spagnola. La Liga Nord come commenta questa notizia? Le voci che sono giunte questa mattina non fanno altro che fare la sintesi di questo paese, un paese alla svendita. La politica industriale di questi anni non è stata una politica incisiva e stiamo perdendo quelle parti di paese che avrebbero avuto la necessità di un piano industriale veramente paese, più volte l'abbiamo detto, più volte per quanto riguarda le telecomunicazioni questo non è avvenuto. Telecom è una società che tutto sommato poteva avere ancora un senso nel nostro paese, è stata venduta agli spagnoli e questo ci fa anche un po' sorridere, insomma l'avessero comparata i tedeschi magari parentemente dovrebbero stare meglio di noi ma essere acquistati degli spagnoli, lascia un po' anche l'amaro in bocca con tutto il rispetto che ho per gli amici spagnoli. Per quanto riguarda la Lega sulla posizione non è che ci facciamo troppi scrupoli per quanto riguarda la collocazione dei capitali, importano le azioni, le azioni che devono fare il bene del paese per cui per quanto riguarda le telecomunicazioni due aspetti fondamentali. Uno, lo scorpo della rete affinché ci sia veramente una concorrenza uguale per tutti, una cosa che è mancata in questi anni per una deficienza da parte di telecom e dei suoi vertici. Secondo, come il nuovo padrone si metterà a disposizione per le reti di nuova generazione, la banda larga e la banda ultralarga nel nostro paese che sono molto importanti. Chi lo sa, magari questa sarà la soluzione dei nostri problemi. Certo che una vendita durante la notte di questa importante società nel nostro paese ci fa preoccupare. Fa preoccupare anche la situazione di Alitalia, sempre in rosso, in costante rosso. A questo punto il ministro Lupi ha detto che si può vendere un altro 25% ai francesi e quindi dare la metà della compagnia aerea nazionale ai transalpini. La Liga Nord è d'accordo? Per quanto riguarda l'Italia è una società fallita, come questo paese, una società che andrà in svendita, una società che perde regolarmente tutti gli anni centinaia di milioni di euro. È chiaro che nel nostro paese è mancato il coraggio, ad esempio, che hanno avuto gli amici svizzeri in cui una società, un'azienda di bandiera come la Swiss Air è stata venduta immediatamente, è creata la nuova azienda Swiss con Lufthansa e sta funzionando. Qui si è voluto fare un tentativo a rianimare un morto e questo morto ha aperto gli occhi.